Seosip Mandelstan, il poeta Mandelstan in modo particolare, occupa un ruolo straordinario, forse unico, certamente significativo in un intreccio tra letteratura e vita, nel ricercare il tracciato dantesco nella sua vita e nel suo viaggio letterario ed esistenziale, la poetessa Anna Akhmatova è riuscita ad esprimere e ad essere nello stesso tempo espressione di un viaggio tra l'inferno e il purgatorio e il paradiso. Mi riferisco al rapporto di Dante nella cultura russa, nella letteratura russa in modo particolare. E il confronto diretto, il rapporto diretto, non è con la critica letteraria russa, non è con gli strumenti critici che va a posto, a mio avviso, il confronto che è necessario e utile, chiaramente. Ma ciò che ci fa capire l'importanza di Dante nella cultura russa a partire dal 1700, e anche prima forse, è il legame che Dante ha avuto con la poesia e con i poeti russi. In modo particolare diventa peculiare il rapporto di Dante nella cultura letteraria russa proprio intorno al 1900, con quei poeti e quegli scrittori che hanno rappresentato una visione della vita dentro la letteratura e l'interpretazione della letteratura non prescindendo dalla loro vita, dalla loro esistenza, del loro viaggio. Soprattutto quegli autori, quei poeti che sono stati aggrappati al senso della dissidenza e che sono morti o vissuti in esilio. E fino a Solzhenitsyn il percorso è abbastanza articolato e abbastanza ampio. Il gulag di Solzhenitsyn non è forse il vissuto dentro l'inferno o dentro il mostro dell'inferno. Il mostro dell'inferno è sostanzialmente il gulag di Solzhenitsyn e credo che sia un dato significativo come la Divina Commedia abbia potuto dare una dimensione proprio geografica dal punto di vista metafisico e metaforico a questa letteratura. Penso anche a Gogol, a Nicolai Vasilievici Gogol, che è lo scrittore che vive tra l'enigmatico e l'assurdo, soprattutto in quegli anni che vanno dal 1830 al 1850, è proprio in questa fase, in questo ventennale, che è Gogol cercare la Divina Commedia, proprio quello senso della trasposizione della vita, dell'enigmaticità, appunto, nel poema. Dandesco posto dentro la Russia. Siamo in una Russia chiaramente non sovietica, zarista. È proprio nel mondo, è nella cultura zarista che si impone Dante. E si impone Dante anche, se vogliamo, nella traducibilità del testo della Divina Commedia. Ed è qui, in questo periodo, in questo contesto, in questa temperia, che la traduzione della Divina Commedia comincia ad avere una circolazione all'interno delle arie cosiddette russe, del mondo russo, che diventerà poi quella realtà che sarà, dopo il 1917-1920, sarà la realtà sovietica. Ma è Gogol con le anime morte, soprattutto che si ispira in questo passaggio delle anime morte, è un passaggio in cui, metaforicamente, l'inferno, il purgatore e il paradiso è la triangolarità che si vive appunto nel romanzo di Gogol, delle anime morte. E Gogol chiaramente si impose con questo progetto, che noi troviamo nelle anime morte, con l'impatto, attraverso l'impatto che ha avuto con Dante. È chiaro che tutta questa dimensione, che potrebbe essere definita dimensione spirituale, ha avuto un berno centrale, poi, in un poeta che ha rappresentato il senso anche dell'esilio, dell'esile tra l'Europa italiana, l'Italia europea e il mondo russo, e il mondo russo semi-asiatico. La presenza, sostanzialmente, di Dante nell'Armenia è stata fondamentale, ma il popolo armeno, la cultura armena, è stata quella cultura che immediatamente ha capito l'importanza, l'importanza della storia italiana, la quale cultura armena non si è fermata certamente a Dante, ma ha portato la letteratura italiana dentro la cultura armena. E questo è un tassello significativo dentro quel mosaico, che è il mosaico di un incontro tra filosofia e letteratura. Tra filosofia e letteratura si impore poi, chiaramente, quel genere, tra virgolette, come avrebbe detto e ha detto la mia Zambrano, la filosofia spagnola Zambrano, la confessione come genere letterario. In fondo, chi ha attraversato la Divina Commedia nella letteratura russa non ha fatto altro che vivere una confessione. E anche Alexander Pushkin ha vissuto questo elemento in cui il senso dell'esule, che è dentro l'opera di Pushkin, nasce proprio nella cultura, se vogliamo, nella cultura profondamente fiorentina, che trova appunto nella Divina Commedia sia il punto di contatto sia dal punto di vista linguistico, sia dal punto di vista filologico, sia dal punto di vista, se vogliamo, dell'impatto in cui letteratura e lingua divendono vita e parola, vita e linguaggio. E credo che Pushkin sia, tra gli altri, uno dei punti di contatto che permette il tragrettamento di un dante esule all'interno della letteratura russa vera e propria. A prescindere da questo aspetto, che è un aspetto puramente creativo letterario, che finisce, come dicevo, in una continuità, ma anche in un modello articolato con... Solzhenitsyn, passando attraverso questi autori che io ho citato, ma a cui riferimento poi bisogna porre anche Vladimir Soloviev, un filosofo e letterato che pur in modo mascherato ha una grande influenza di tante. Quindi acquisisce, in modo particolare, non solo dalla Divina Commedia, ma soprattutto dalla vita nuova e dalla saggistica, convivio, demonarchia, una visione e una dimensione tra società, letteratura e struttura, se vogliamo anche filosofico-politica, nel mondo europeo. Soloviev, che a partire da quella cultura eretico-ortodossa, recupera in tante proprio questa dimensione forte, dimensione forte dello spiritualismo, Tukur, ad impatto col mondo anticattolico, ma dentro l'eresia ortodossa. A prescindere da questo aspetto, da questi aspetti, Dante in Russia ha avuto diverse traduzioni, ha avuto diverse interpretazioni e anche versioni, sia nel tempo russo, nel tempo della cultura zarista-rusta, e sia nel tempo sovietico. Ci sono testi e autori che, soprattutto nella stagione staliniana, hanno affrontato la questione, in modo particolare, del Dante allo specchio, della Divina Commedia allo specchio. E mi riferisco anche a Lozinski, tra il 1939 e il 1945, ha svolto dei lavori importanti, fino all'epoca che si affaccia al 2000, con un autore, Vladimir Rangman, che ha intessuto un dialogo proprio con quella letteratura che usciva fuori dall'imbrigliamento politico e si intagliava all'interno di una vera e propria capacità di diffusione della letteratura come movimento di libertà, come espressione di libertà. E credo che questo sia un dato in cui il modello della traduzione sia caratteristico di quell'epoca sovietica che ha delle radici proprio in una visione che è una visione settecentesca. Cioè, dove è fallito il modello della traduzione settecentesca in Russia, è ripreso, poi quel modello è stato ripreso, quel modello nell'epoca apprettamente sovietica. E Lozinski lavora su questa assimilabilità della divina commedia come letteratura della vita e come espressione della spiritualità vera e propria. sono dei passaggi che diventano significativi soprattutto per chi considera la divina commedia come monumento della letteratura mondiale e nella Russia è stata considerata tale come è stata considerata tale anche in un'epoca successiva. e tra questi chi considera tale la divina commedia come letteratura mondiale è stato Max B. Gorky. Gorky, scrittore, ha dentro di sé questa visione della mondializzazione della letteratura e fa appunto della divina commedia un punto di contatto non fermandosi però alla divina commedia ma agganciandosi in modo letterario e anche linguistico se vogliamo alla vita nuova perché il vero dialogo che compie o fa compiere Gorky Max B. Gorky è quello di legare strettamente la vita nuova alla divina commedia e credo che questo sia un dato significativo significativo perché è stato compiuto viene compiuto in una cultura qual è quella cultura russa in uno stretto ingasellamento tra radici cattoliche controverse e mondo ortodosso o mondo ortodosso in cui tra la realtà culturale cattolica e quella ortodossa si insinua la cosiddetta eresia e questo è un fatto importante perché dentro questa visione si crea un vero e proprio laboratorio di traducibilità di Dante non soltanto in termini linguistici ma in termini in cui la forma diventa metafora e la metafora è una vera e propria visione dandologica dandologia in cui Dante diventa stesso una colloquazione relativa a tutta la letteratura tra Europa e mondo asiatico e Dante è visto in questi termini è visto in questo modo e credo che le monografie poi che sono state pubblicate su Dante hanno dato questa visione in cui la poesia e la storia sono l'espressione certamente di una dimensione critica ma che danno una vera e propria dimensione spirituale un fatto innovativo è questo soprattutto per la cultura dell'inizio novecento fine ottocento della Russia quindi è chiaro che Mandelstam trova un terreno fertile in ciò che la Divina Commedia aveva costruito nella cultura russa a partire dalla fine del settecento e quindi quell'imprevedibilità che pensava di trovare Mandelstam poi viene ad essere una rappresentazione vera e propria della spiritualità di un tempo che è quello se vogliamo rinascimentale perché Dante era considerato nella cultura russa un vero esempio o un vero testimone della cultura rinascimentale dell'Europa e non è visto con lo sguardo e con gli occhi di un medioevo o filologicamente di un poeta di uno scrittore appartenente al medioevo ma viene considerato come quell'intellettuale che vive nella tradizione che sarà rinascimentale che ha le sue radici prettamente nell'umanesimo e credo che questo sia innovativo da questo punto di vista perché la percezione retrospettiva poi di un Dante che viene indagliato fuori dal medioevo e inserito tra l'umanesimo e il rinascimento diventa veramente una ricezione in cui il dettato dandesco ha in sé un'analogia tra la cultura europea rinascimentale che è il punto di riferimento il punto condatto con la cultura mondiale con la cultura internazionale e la contestualità che si ha all'interno proprio di quella sfera che è la sfera asiatica ecco perché trova un maggiore impatto Dante nella cultura armena perché la cultura armena vivendo nella sua cristocentricità aveva trovato poi in Dante il riferimento se vogliamo religioso vero e proprio cosa che non troviamo però nel mondo della versione se vogliamo sovietica vero e proprio perché il condatto l'impatto col mondo cattolico infastidisce soprattutto dopo il 24 il 1994 l'età l'epoca sovietica ma questo non significa però chi viene emarginato Dante anzi viene studiato ancora di più attraverso la realizzazione di una fruibilità di quelle versioni e di quelle interpretazioni che si danno di Dante non soltanto della Divina Commedia ma anche delle opere saggistiche e credo che il dato significativo di tutto questo è nella traduzione ma anche nel cercare di avvicinare la traduzione originale al pensiero filosofico se vogliamo tra Oriente ed Occidente è un'individuazione in cui non si pensa o non si ponda a restaurare un certo tipo di modello culturale europeo ma si pensa addirittura di innovare quel modo di conservazione all'interno di un processo che è un processo innovativo vero e proprio quindi il presupposto essenziale non è quello critico ma è fortemente formale fortemente letterario fortemente legato ad una dimensione in cui l'individuazione della metafora dell'esilio diventa anche l'individuazione del sapere linguistico e del sapere metafisico penso a questo punto a Pasternak Pasternak è uno degli autori soprattutto in poesia che ha avuto la traducibilità in termini formali della vita nuova quindi le figure che Pasternak pone all'interno del dottor Zivago ondeggiano sostanzialmente tra l'immagine e l'immaginario di Beatrice e l'immagine forte di una Francesca che non è traditrice ma che è fortemente calata nella passionalità dell'amore bene Lara di Pasternak sarebbe non la Beatrice ma sarebbe la Francesca che vive questo amore di grande passione all'interno di un processo che non è soltanto culturale ma è profondamente legato alla visione alla dimensione umana in cui il concetto ineludibile di conseguenze che potrà avere questa storia d'amore nel dottor Zivago diventa chiaramente una visione di unità se vogliamo tra passione discrezione della fedeltà o indiscrezione della fedeltà è un vero e proprio modello di intellegibilità letteraria che diventa un vero e proprio modello illuminante di vita di esistenza perché ciò che non era detto nella cultura russa dal punto di vista esistenziale è percepito viene percepito e se pensiamo che la Divina Commedia e Dand nello stesso contesto trova il suo punto massimo di conquista è iniziare come incipit di una vera e propria visione di una vera e propria dimensione di conoscenza indorno al 1757 quindi siamo nell'epoca zarista vera e propria in fondo si parla di una Divina Commedia della zarina vera e propria cioè della zarina Petrovna che vuole a tutti i costi un'edizione della Divina Commedia ed è lei che porta la zarina Petrovna porta all'interno della cultura russa l'importanza di questa dimensione che è la dimensione di un approdo all'interno di una commedia che ha già tra i suoi elementi il concetto fondamentale di Divino in fondo è questa divinità che nel 1757 trova in Russia proprio un mondo integrale ed interazione che ha la sua forza dentro una vera e propria acclamazione di individualità aspetto elemento che viene poi recuperato in modo sostanziale da Gorghi al quale io facevo riferimento quindi il panorama di letture di interpretazione di Dante nella Russia pre-sovietica quindi zarista ha una continuità sino al modello post sovietico fino ad arrivare chiaramente ai giorni ai giorni nostri quindi ha una vera e propria come dire percezione in cui il dato significativo non è un dato astratto ma è un dato in cui il modello dantesco diventa la base per una cultura che è la cultura del pensare del pensiero che ha nella sua dimensione un vero e proprio modello di interpretazione se vogliamo ancestrale nel senso più concreto del termine ma tutto risale però e credo che questo è il punto di contatto soprattutto soprattutto nella cultura sovietica di un'osservazione di Friedrich Eggels quando dice ed è come se fosse una giustificazione vera e propria quando dice Dante è una figura colossale e l'ultimo poeta del Medioevo e il primo dell'inascimento ecco Eggels il padre insieme a Marx di un percorso marxista trova in Dante in Dante questo primo uomo primo poeta prima personalità del rinascimento è chiaro che con questo dettame con questo percorso tutto diventa non più facilitario ma diventa diventa come modello antagonista tra mondo e cultura zarista è vero e proprio vero e proprio percorso sovietico perché non perderà mai la sua presenza sia all'interno della cultura post-illuminista se vogliamo per usare un termine europeo è nel mondo sovietico la cui premessa risale proprio a quella fase europea europea illuminista vera e propria e tutto questo si rivelerà poi una carta vincente per dare stesso nella cultura russa e le suggestioni credo che siano proprio queste le suggestioni che danno a Soloviev per restare in questo circuito una lettura un'interpretazione precisa diventa una forza trainante di quello che sarà il mondo filosofico vero e proprio il percorso teologico poetico di Dante dicevo trova dentro Soloviev una chiave di lettura significativa ma perché questo perché è chiaro che trova il terreno già spianato perché Soloviev è un filosofo che diventa un interprete di quella dichiarazione che è la dichiarazione di una teologia che si confronta ma anche si disputa una battaglia significativa con la filosofia e tutto questo ha una sua dimensione in cui Soloviev esprime una filosofia in cui il senso della spiritualità il senso dell'ortodossia il senso della metafisica rappresentano un vero e proprio contatto con due concetti chiave la speranza e la risurrezione e credo che Dante letto da questo punto di vista diventa un vero e proprio modello in cui il mondo surreale di Soloviev a volte diventa il mondo filosofico della profezia ecco Soloviev legge in Dante questo concetto tra mistero e profezia ma sono due concetti sono due elementi che nell'opera di Soloviev diventano fondamentali ecco perché a terreno fertile come dicevo terreno fertile perché trova sostanzialmente una vera e propria concezione in cui il tempo il tempo della letteratura si immette dentro il tempo della filosofia un vero e proprio concetto al quale nel tempo moderno ci ha educato anche la visione metaforica di ciò che diceva Mandelstam e soprattutto quando Mandelstam sosteneva e sopra il bosco quando fa sera salza una luna di rame perché mai così poca musica perché mai un tale silenzio ebbene sono metafore che attraversano la selva oscura che viene incarnata da Mandelstam appunto nel bosco ma c'è il silenzio c'è la sera c'è una luna di rame tutto questo è metaforico chiaramente ma trova nella sua capacità vera e propria una dimensione che è appunto una dimensione filosofica e poetica detto questo credo che scavare in una letteratura russa che recupera Dante sia inutile perché Dante non è recuperabile nella cultura russa vive nella cultura russa e questo è un presupposto fondamentale è un presupposto fondamentale perché credo che partire da questo presupposto significa anche dare un senso a quella grande pena che vive dentro la poesia stessa russa in fondo e qui chiudo quando Akhmatova scrive quei vessi Dante e mio bel Staggiovanni Dante Akhmatova non traduce non traduce dal punto di vista linguistico trasporta Dante dentro la sua vita ma significa che trasporta Dante dentro la cultura russa e a Dante dedica questi versi con i quali io mi concedo dice neppure dopo morto ritornò nella sua vecchia Firenze partendo non si volse indietro ed io a lui canto questo canto fiaccole notte ultimo abbraccio oltre la soglia selvaggio il grido del destino le scagliò dall'inferno il suo anatema non la potè scordare in paradiso ma calzò mascalzo chido scusa mascalzo in panni da peritente e cero acceso non passo mai per la sua Firenze agognata perfida vile attesa così a lungo versi di una straordinarietà e di un'importanza direi unica ma chi poteva scrivere questi versi Anna Akhmatova 1889 1966 una poetessa che ha vissuto dentro il mondo dell'esilio dentro quel mondo dell'esilio che ha dato un senso alla cultura russa ma in modo particolare all'esilio dentro la cultura russa e questo verso iniziale della poesia neppure dopo morto ritornò è un dato singolare fino all'ultimo verso quando dice perfida e riferendosi a Firenze vile attesa così a lungo siamo con Akhmatova e con questi vesti al 1936 quindi Dante è completamente dentro la cultura letteraria e filosofica russa ed è dentro un vissuto che abbraccia una sfera di scrittori di poeti di filosofi la cultura russa ha fatto di Dante un punto di contatto tra l'Europa occidente ed oriente tra i modelli di trascrizione esistenziale di deduzione esistenziale ma anche un interprete un interprete di quell'esilio che è l'esilio chiaramente che porta alla dissidenza ma che proviene da un processo culturale che in sé la cultura è la vita è la vita è la vita